La scuola è finita, appuntamento all'anno prossimo. Sì, ma dove? A non essere in grado di rispondere a questa domanda sono i ragazzi del liceo Marconi di Pescara, la cui sede è prossima alla demolizione. Per averne una nuova di zecca occorreranno almeno due anni e nel frattempo le elezioni si svolgeranno un po' qua, un po' là e un po' non si sa. A segnalare l'incertezza sono i consiglieri del Partito Democratico. Oggi davanti al Marconi hanno anche incontrato le rappresentanti d'istituto. Secondo i consiglieri del PD, la provincia, ente di competenza per le scuole superiori, avrebbe individuato alcuni spazi sostitutivi che però non sarebbero sufficienti ad ospitare tutti i 1.400 studenti e intanto l'appalto per la ricostruzione dell'edificio sembra essere al palo. Siamo in una situazione di totale incertezza. Oggi è l'ultimo giorno di scuola per tantissimi ragazzi che non sanno dove ricominceranno a settembre, non sanno se i tre licei saranno sparpagliati sulla città, non sanno se saranno accorpati, non sanno dove andranno, non sanno questo. 1.400 studenti e 200 professori, nonostante che la provincia abbia effettuato l'aggiudicazione dal 30 dicembre del 2020. Anzi, il 21 di aprile, in un consiglio provinciale, il presidente della provincia chiedeva ai consiglieri provinciali di interessarsi per trovare una soluzione. Questo significa che prima non è stato fatto. Noi chiediamo se c'è veramente un avviso per la ricerca di spazi dove questa scuola possa continuare. Certo non potrà essere una nuova DAD e poi occorre trovare la provvista economica necessaria a completare i lavori, perché qui servono circa 15 milioni di euro. Di questi 15 milioni sono disponibili, governo d'Alfonso 2018, 8 milioni di euro che serviranno per l'abbattimento della palazzina A e della palazzina B. Poi bisognerà abbattere anche la palazzina C, quindi servirà un'altra provvista economica di circa 7 milioni. Elena, rappresentante d'istituto insieme ad altre colleghe, come state vivendo questa incertezza? La nostra comunità è molto unita, si tratta di ragazzi, di studenti, di alunni, di professori. La nostra comunità vuole rimanere unita, sente questa situazione come un peso. Come un punto interrogativo? Molti ragazzi, piccoli ragazzini, non si vogliono neanche scrivere oppure stanno ritirando le iscrizioni, perché pensano che non ci sia un futuro, non sappiamo dove andare ad oggi, 9 giugno, 10 giugno, non sappiamo dove andare, non sappiamo cosa fare, non sappiamo dove saremo, chi saremo, perché comunque la scuola è un'entità, è un'identità. La nostra identità era questo edificio, sì, ok, ha qualche difetto, questo non lo nego, però comunque è la nostra identità. E noi sentirci dispersi, sentirci frantumati, frantuma anche la nostra identità.